prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente un grazie dal profondo del cuore sant'anastasio primo è stato un importante papa nel periodo paleocristiano noto per le sue dottrine teologiche e il suo impegno nella difesa della fede le sue parole hanno lasciato un'impronta significativa nella storia della chiesa di seguito sette frasi importanti pronunciate da sant'anastasio primo 1 la fede è il fondamento della nostra relazione con dio 2 la preghiera è il ponte che ci collega al divino 3 nella carità troviamo la forza di superare ogni ostacolo 4 la saggezza consiste nel discernere la volontà di dio nelle nostre azioni 5 la pazienza è la virtù che ci sostiene nei momenti difficili 6 il servizio agli altri è la manifestazione più pura dell'amore cristiano 7 la speranza ci guida lungo il cammino della vita eterna se queste frasi ti sono state d'aiuto ti chiedo di sostenermi iscrivendoti al canale e condividendo questo video con i tuoi amici grazie e a presto